15.000 mi piace, settimana prossima vi porterò un pack opening per i TOTS della Premier League Bella ragazzi, carichi come non mai da FuseGamer Oggi ragazzi, siamo qui con un video incredibile perché oggi ragazzi Primo pack opening dei TOTS Prima settimana dei TOTS ragazzi, quelli della community Mi raccomando dovete lasciare 15.000 mi piace se settimana prossima volete il pack opening della Premier League Mentre le lunedì ragazzi vi caricherò il combo del primo giocatore con Ziliski Quindi mi raccomando iscrivetevi al canale perché dobbiamo arrivare al milione di iscritti e attivate la campanellina Non ci vediamo in chiacchiere, andiamo dentro con questo fantastico pack opening Ok, 19, 19, vediamo cosa esce Ok non è uscita nessuna schermata però vediamo lì, vediamo lì, vediamo lì Non è uscito niente Allora lo scopriamo tramite questo picco 84+, sono usciti i TOTS magari Speriamo Un bel TOTS subito Madonna il primo TOTS ragazzi, il primo TOTS Oh Neymar, oh Neyman, che grande Wow a sto punto non so se prendere lì o Bobby Firmino Ma si prendiamo il TOTS, ma che ci frega Godo ragazzi, primo TOTS, eccolo qui Penso il TOTS più veloce da quando gioco a FIFA, incredibile 19, 19 e 30 secondi, trovo un TOTS, incredibile Altra cosa, ho tantissimi pacchetti, tipo una cinquantina di questi, 81 o più Quindi oggi voglio veramente creare il panico Di questi qua da 50.000 sinceramente non li voglio 10% di trovare un giocatore della stagione Beh, uno me lo apro 10% E che dei pacchetti da 125, c'è il 50% di trovarli Vediamo, niente Correa TOTS, buonissimo Power TOTS, vediamo un attimo Lo scelso, ok Federico Chiesa, è uscito addirittura Madonna esterno sinistro Federico Chiesa Ma non voglio, vi faccio vedere al volo la mia squadra Esterno sinistro Esterno sinistro, me lo son chiamato Ciao Gervinio, ciao Gervinio Fai posto a Chiesa, cacchio Fai posto a Chiesa, porca miseria Mamma mia, va giù Perfetto, me l'ha fatto apposta La IEM mi ha fatto il regalo Ha detto, metti il nuovo esterno sinistro Madonna, buonissimo sto Chiesa Ok, devo mettere sperimentale Vediamo, eccolo qui 95 di velocità Vediamo quanto ha di Piede debole 4 e 4 sede di mostrabilità Ok, non male come carta Da provare sicuramente Però voglio sapere gli altri Chi c'è, chi c'è, chi c'è Ragazzi, posso sapere? Mannaccia, l'onna Kandra Allora, è uscito Valverde di forte Forte, forte Mamma mia, quanto costa questo Valverde? Alaba, difensore centrale Buonissimo E quel Buendia Alla destra Premier, non è male Però io saprei gli altri È uscito Zilu Mamma mia, diamo 200k solo costi Ma come fanno? Come si permettono questi? Madonna, com'è bella sta carta 5 stelle piede debole E ci sta E che costa così poco? Ma come fa a costare così poco Ziliski? Come fa a costare così poco 160k? 115 Ma io lo compro, cazzo Ma sì, dai Giusto 120.000 crediti per Ziliski Forse ho fatto una cagata Perché magari si abbassa Però 5 stelle piede debole Mi sembra esagerato Comunque è forte C'ha 90 di velocità Cioè, veramente È un mini De Bruin Toti È raro comunque, eh Cazzo, di solito ritrovo i bulk out Questi 81 o più Ma manco più Oh, il primo Vai Primo bulk out È male, ho visto icona Ho visto malissimo Ho visto proprio male, male, male Ho visto Sì, sì, sì Mettiamo la canzone di Haaland Sì Francese C.O.C. Oh Questo è buono Questo è buono Chi è? Un co-co Un co-co Un co-co Un co-co Ma che ci faccio in meno Matarata, mammata Buonissimo questo 90 di velocità Quanta di Mmm Oddio Vabbè, secondo Tots trovato E andiamo Pug da 100k Dammi un bel walk out Ok Dammi lo Toz Eccolo qua Francese Franceso Uruguayano Franceso Uruguayano Ok Come non detto Vabbè, ho però Ah, caccia Della Championship Che è della FL Championship Questo è Madonna Mi ero dimenticato Che ci fossero pure questi Non ci credo Allora Siamo nell'account di Lollo E abbiamo 10 giocatori Con valutazione 83 superiore Qua a pretendere Un Toz Veda lei Veda lei Veda lei Oh Bravissimi Vediamo chi troviamo Inghilterra Cdc Non mi dire Quelli della Ah Aiaiaiai Che è questo Mamma mia Mamma mia Che pacchetto Che vinone Pogba E Huts Il migliore è lui Sicuramente il migliore è lui Quindi Ti è andata bene Lollo Pack Da 100k Forza Dammi un Toz buono Un Toz buono Forza Vai Spacchettiamo Velocemente Velocemente Vai Perché già sappiamo Che finiranno Quelli dopo Walk out Toz Toz Ti prego polacco Inglesi Vai vai inglesi Cioccino Ancora quello di prima No porca miseria Vai avanti Chi è questo Ah perché il doppione Giustamente No due volte Nei marro Ho trovato Ultimo pacchetto Da 100k Poi passiamo Da 125 Vai con calma Si trovano i Toz Eccolo qui Eccolo qui Eccolo qui Ti prego Ti prego Non ci credo Non ci credo Non ci credo Non ci credo Ma va a cagare Ma va a cagare Ma veramente Ci ho creduto Ve lo giuro Ci ho creduto Pacchetti Da 125 Qui si fa la storia Probabilmente 100.000 pacchetti Devo vedere le probabilità Però intanto spacchettiamo Forza yay Voglio vedere una carta blu Voglio vedere Quanto meno Un walk out Quanto meno Una carta blu Forza col polacco Forza col polacco Ancora Sto coglione Che palle Ancora Ma sto trovando Solo doppio Un incredibile Un percentuale 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 A volo 22% 22% Paz Oh paz Yam mia Yam mia Walk out ancora E ancora tozza Ragazzi Non ci credo Back to back Adesso non lo devi da buono Francese Cioci Sempre lui Sempre lui Sempre lui Sto trovando solo doppioni Oh ma che Calciatori figurine parini Ma non è possibile Il back to back Ho capito però Oh due tozzi in un pacchetto Buonissimo Buono vai Buono Sempre doppione Però cacchio Usciamo Rientriamo Rientriamo Escoliamo Vai 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 Sì 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 Dai Dai Ti prego Ti prego Ti prego Ti prego Lo giuro Ma io ve lo giuro Il video non l'avete visto Ma ho fatto un discorso Motivazionale Di tre minuti Chi stava su Twitch Lo sapeva Ho fatto un discorso Di tre minuti Per trovare Zerischi Ve lo giuro Alle 20 e 57 L'ho trovato Fammi vedere sotto Se ho trovato qualcos'altro Sono pausa Va bene Va benissimo Grande Pio Trezzi Rischi Questo lo scambio E lo metto nel mio grab Perché il valore affettivo È quello che conta di più Ragazzi E andiamo così Ce l'abbiamo fatta Ce l'abbiamo fatta Chat Grandissimi Mi ricorderò di voi Ancora una volta Come Cristiano Ronaldo Totti E andiamo così Ce l'abbiamo fatta Vediamo adesso Chi trova ancora un full count E ancora Totti Non si credo Due back to back Ti prego Brasile E chi è mo? Oh E chi t'abbia E chi l'ugasile Mi hai fatto fuci al Account di Mirko Vai 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 Scuriamo 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 Forza Qui ci divertiamo Oh Niente Per l'account di Mirko È proprio sfigato Se volete trovare un Totti Ragazzi Fidatevi di Zio Fius Ma poi faccio vedere Che fa Fius La data Che ha X Giù Sopra Giù Sopra X Sopra Giù Sopra Naso Fidatevi ragazzi E così troverete il Totti Quasi sicuramente Al 90% delle volte E infatti Guardate qui Il metodo funziona Perché col naso Vediamo intanto Chi troviamo Col naso Il gioco capisce Che vuoi sculare Crullo Va bene Dai Poi chiunque Totti sia Ci sta Ripeto 90-99% delle volte Ragazzi Funziona questo metodo È quasi Studiato dall'IA Ripeto Non so è come se Tipo il Jessica Riconoscesse il naso Come l'IA Tipo avesse La funzione facciale Non so qualcosa del genere Vabbè Quindi in questo caso Troveremo l'icona Vabbè Momo Salah Dai 90 Vabbè Tagli la parte Allora Com'è Il metodo è questo Il metodo è questo qua Ripeto Vedete il 90% delle volte Trovate il gioco di tribuni O Totti Ripeto Mannaggia Questo non è Totti Quindi Non per forza trovate il Totti Ma gioco di tribuni Quasi al 90% Sicuramente ragazzi Poi io Se non scordate una volta Ragazzi Non mi venite a dire che Ragazzi fai Il metodo A me funziona Almeno sta funzionando Poi Il metodo funziona a me Guardate Vi faccio vedere Guardate perfettamente Questo cos'è Totti Vedete Francesi Ma chi ci troviamo Troviamo Beh Abbiamo trovato Un dombele Abbiamo trovato Un dombele Ragazzi il metodo Il metodo funziona Mamma mia ragazzi Questo naso Non ha valore Mamma mia Un dombele Questo è buonissimo 90% delle volte È buono questo metodo E lo ripeto Lo sto testando Sull'account di Mirko Due tozze addirittura E mammo salà Ragazzi Il metodo funziona Io ve l'ho detto Però basta Ma nelle prossime settimane Te te lo dino la fortuna Con questo naso Cotto cazzo Quindi mi raccomando ragazzi Per altri back opening Lasciamo almeno 15.000 mi piace Perché è stato parlando Un back opening incredibile Quindi lasciate un mi piace Mi raccomando Iscrivetevi al canale Noi ci vediamo Nel prossimo video Bella ragazzi Ciao